Il Covid-19 è sempre in fase calante. Sono tre i nuovi casi positivi in Campania, nella giornata di ieri in cui sono stati esaminati 3.251 tamponi. Secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale, il totale dei positivi in Campania passa a 4.837 dall'inizio dell'epidemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è di 226.553. Le persone decedute dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono salite a 428, dopo i due decessi segnalati nella giornata di ieri. Sono guarite altre 32 persone e il numero totale dall'inizio dell'epidemia si porta a 3.764. Il riparto per provincia dei casi positivi finora registrati sono così suddivisi. Provincia di Napoli 2.633, Salerno 688, Avellino 548, Caserta 469, Benevento 209. Infine, altri 287 casi sono in fase di verifica da parte delle Asle di competenza.